Dibattito sul bilancio Delegazione di sindaci sul trasporto pubblico locale Incontri al Salone del Libro Sette giorni in Consiglio È proseguita nelle sedute del 15, 16 e 17 maggio in Consiglio regionale la discussione degli emendamenti al bilancio 2012. Nella seduta pomeridiana del 16 maggio il Presidente dell'Assemblea regionale ha comunicato la costituzione del nuovo gruppo consigliare Progettazione, composto da 5 consiglieri. Il 17 maggio, in una pausa di lavori d'aula, l'ufficio di presidenza ha ricevuto una delegazione dell'Associazione Valle Elvo Viva, che ha illustrato e presentato una petizione sul passante idrico Elvo in Gagna.